Mi serve una ragazza spezia, di grande classe per venire con me ad Accapulco in veste di moglie per una settimana. Bella, audace, intraprendente, la partner ideale per indagare su una morte sospetta. Sono 5 milioni di dollari. Pagabili alla vedova entro 14 anni. Ho la sensazione che qui stia succedendo qualcosa di losco, piuttosto grosso. Una spericolata bionda che non teme il pericolo. Raggiati forte! Annie, non credo che dovremmo essere qui. Parafosset, Sam, bruciata dal sole. Domani alle 20 e 30. Esso presenta Xtre, la nuova super senza fiumbo. Xtre nasce dalla ricerca Esso, per darvi più pulizia nel motore, minore manutenzione, maggior risparmio e sempre più rispetto per l'ambiente. Nuova Esso Xtre, senza fiumbo, ma con qualcosa in più. Tutta la potenza Esso. Una potenza Xtre. Uragan, Marin Ware. Signora, vada a Diano. Diano, signora. Il dorso. Attenta al dosso. Attenta! Posso farle una domanda? Dica. Ma con tutto lo yogurt che c'è, c'era proprio bisogno di Yoplait? Eh? Yoplait, lo yogurt dal gusto rotondo con tanta buona frutta. Yoplait, scoppia di salute e piace in tutto il mondo. Allora c'era proprio bisogno di Yoplait? Secondo me sì. Yoplait, lo yogurt che mancava. Adesso c'è. Oh, vallelata, candida mozzarella, morbida e fresca con i tuoi fermenti lattici. Oh, vallelata, trionfo del sapore, delizia del palato, sublime bontà. Vallelata, quando la mozzarella è un classico. Galbani vuol dire fiducia. I grandi esperti buffetti ti aiutano a fare il 7 e 40. Tutti i giorni al PMC News e a TV Donna. È nato il pullo manzotino. Fetti di pullo in gelatina gustosi e leggeri. Solo da fetti di pullo. Solo da manzotino. C'è più gusto a tavola. Con la Gazzetta dello Sport, la storia delle Olimpiadi in sei pratici regoli settimanali. Ori, record e personaggi dal 1896. Venerdì 12 giugno, con la Gazzetta dello Sport, il primo regolo è in frattu' di cuore. La Gazzetta dello Sport, il primo regolo è in frattu' di cuore. La Gazzetta dello Sport, il primo regolo è in frattu' di cuore. La Gazzetta dello Sport, il primo regolo è in frattu' di cuore. Da lunedì al venerdì, dalle 16 alle 20. Non stressatevi la vita. Avete finalmente risolto il problema. Avete scelto il sistema migliore per difendere la vostra auto. Gamma. Antifurti professionali. Nuova esso extra. Senza piombo, ma con qualcosa in più. Tutta la potenza esso. Puritani e impacciati, o focosi e incandescenti. Come erano i teenager di una volta. In prima visione tv, Heavy Petting, l'età degli amori. Mercoledì alle 22.15.